Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il Vice Presidente Domenico Pettinari hanno preso parte all'evento nazionale di apertura dell'anno scolastico Tutti a scuola, che quest'anno si è svolto all'Aquila, a dieci anni dal sisma, nel cortile della primaria Mariele Ventre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A cui dobbiamo tutti un ringraziamento sentito, perché certamente qui per l'apertura dell'anno scolastico e tanti auguri a tutti gli studenti, ma evidentemente viene all'Aquila ad aprire l'anno scolastico, appunto per continuare a tenere i riflettori accesi su tutte le problematiche della ricostruzione, che in questo caso riguardano anche la ricostruzione di scuole che devono essere, non solo all'Aquila ma in tutto Abruzzo, sicure, moderne ed efficienti. Qui c'è anche il compito della Regione, che deve recuperare il tempo perso e dobbiamo cercare di accelerare su questo tema, di aiutare gli enti locali, che sono di solito le stazioni appaltanti, province e comuni, a velocemente iniziare i lavori per dare a tutti gli studenti una scuola, appunto, sicura, efficiente e moderna. All'evento, trasmesso in diretta da Rai1 e condotto da Flavio Insinne e Francesca Fialdini, hanno partecipato numerose personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, applaudite da oltre mille studenti provenienti da 350 istituti italiani. Erano presenti il Ministro del Sud Provenzano, il Vice Ministro Ascani, i rappresentanti delle istituzioni locali, il Cardinale Petrocchi, Gianni Letta e le autorità militari. Mentre sul palco si sono alternati i cantanti Enrico Nigiotti, Ron, Noemi, le star del web The Jackal, oltre a testimonial del mondo dello sport, come la capitana della nazionale femminile di calcio, Sara Gama, la nuotatrice Simona Quadarella, gli atleti paralimpici Lorenzo Marcantonini e Margherita Paciola e con loro anche il presidente del CONI Malagò e del Comitato Paralimpico, Pancalli. Ha portato del suo saluto agli studenti il Ministro dell'Istruzione Fioramonti, che ha lanciato un monito. Dopo dieci anni dal terremoto, le parole non contano più. È inaccettabile che non si sia ancora ripartiti, soprattutto per quanto riguarda il contesto scolastico. Nel corso del suo intervento, il presidente Mattarella ha sottolineato come le pubbliche istituzioni siano chiamate a sostenere i programmi di ricostruzione, offrendo all'Aquila le opportunità che la sua gente e la sua storia meritano e in egual modo devono rispettare gli impegni verso le altre comunità colpite da sismi più recenti. Agli insegnanti, agli studenti e alle loro famiglie, ha sottolineato Mattarella, va garantita ovunque la massima cura per la sicurezza degli edifici, secondo gli standard esigenti che le tecnologie moderne consentono.